E' passato di tempo. Achille, adeguale. Come vanno le Indie occidentali? Molto male, Temu. Dal tuo sguardo immagino tu voglia parlarne. Vieni. Chi è l'ospite? Ecco adeguale. Uno schiavo che ha liberato se stesso e centinaia d'altri nelle Indie occidentali. Lui è l'incarnazione vivente del credo. Capisco. Facciamo un po' di pratica. Dopo. Ma adesso ho altro da fare. Dimmi cos'è successo. E' stato terribile, Achille. La terra tremava e le onde dell'oceano hanno sommerso Porto Penso. Quante sono le vittime? Migliaia. Ogni famiglia ha subito perdite. Odio parlare di lavoro in momenti come questi, ma gli uomini di Macan hanno completato il loro compito prima del tempo. Adeguale sembrava preoccupato. Eliam ti stava aspettando. L'hai visto, per esempio? So che la signorina Hope ti stava cercando. Sei in ritardo. Hop, che mi sono perso. Solo la prima ora di lezione. Ci alleniamo sempre. Che segoase. E continueremo a farlo. Non sprecare il fiato. Scegli, odia l'allenamento come un gatto odia l'acqua. Ehi! Peccato, il ragazzo ha del potenziale. Ma poca disciplina. Va bene. Va bene. Che cosa devo fare? Ben fatto. Ben, qual è la sfida di oggi? Oggi impareremo a sparare. Tieni, puoi usare queste. Ma sono le tue. Beh, voglio darti una mezza possibilità di farcela. Forza. Spara questi bersagli. Prenditela un'altra. Ma non troppo. Ma anche altro da fare. Ricarica. Chiunque sa colpire i bersagli da fermo. Prova a farlo mentre corri. Andiamo. Sbrigati. Dai, ci sei quasi. Ben fatto, Shay. Continua così. Ottimo, Shay. Non farti nervosire dagli altri. Non sembra, ma lo fanno per il tuo bene. Era ora che arrivassi. Non vorrei mai far aspettare una signora. Non sono una signora. Ricordatelo. Sono la tua insegnante. E un tuo superiore. Beh, almeno una cosa è vera. Allora, cosa faremo? Vedremo i mille modi di uccidere. Voi due, rendetevi utili. Sorvegliate Shay. Puoi uccidere senza farti vedere. Molto bene. Resta basso e non farti scoprire. Sei paziente e colpirai il tuo bersaglio. Non c'è dubbio che la sai scoprire da solo. Cerco una posizione elevata. Attaccare dall'alto il modo migliore. Cerco una posizione elevata. Attaccare dall'alto il modo migliore. Testa basso e non farti scoprire. Sei paziente e colpirai il tuo bersaglio. Ben fatto. Sono sorpresa. Meglio di ciò che mi aspettavo. Sei davvero diventato più bravo, Shay. Oh, adesso non montarti la testa. Shay, seguimi. È ora di imparare a sopravvivere alla frontiera. Penso di essermela cavata abbastanza bene finora. Forse. Ma c'è altro che posso insegnarti. Dai, torna su. Ti aspetto. Dai, torna su. Dai, torna su. Ti aspetto. È ora di andare a caccia. Usa tutti quanti i tuoi sensi per trovare la preda. Non bisogna mai decidere senza motivo. Usiamo ciò che ci dà la natura. Bene. Ora devi usare quello che la natura ti ha dato. Con queste potrai tenere vicine le pistole. Achille ha un'altra cosa da mostrarti. Non, 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 non. Ah. Shay, ho sentito dire che hai un'ottima mira. Davvero belle. Grazie, mentore. La nave mi chiama, Achille. La gente di Haiti farà buon uso dei tuoi doni. Spero che ritroverai ciò che hai perso. Perso? I Templari hanno rubato due manufatti preziosi. Un manoscritto antico e la scatola che permette di capirne il senso. Ho seguito i Templari fino a queste coste, ma d'ora in poi tocca a te, amico mio. Addio ad Euale. Chiunque possieda i manufatti può accedere ai siti dei precursori. Dobbiamo recuperarli a ogni costo. Grazie.